Il Comando Provinciale di Salerno ha tracciato il consuntivo sulle attività di prevenzione e repressione dei reati compiute nel 2021. L'attività svolta con una presenza importante su tutti i 158 comuni della provincia, oltre 85.000 servizi preventivi nel 2021. Nell'attività antidroga sono state segnalate alla magistratura 1.232 persone in particolare per traffico e spaccio di droga, sequestrante ingenti quantità di sostanze stupefacenti, costante l'impegno per il contrasto della criminalità organizzata e di questo mese l'ultima importante operazione che ha portato all'arresto di 21 persone per associazione di stampo camorristico finalizzata all'usura e dalla estorsione tra i comuni discafati e altri centri dell'Interland napoletano. Nei 12 mesi dell'anno i delitti complessivi in ambito provinciale sono stati 29.314 per l'87% dei quali ha proceduto l'arma dei carabinieri cui il personale ha arrestato 952 persone e ha denunciato in stato di libertà 8.024. In calo i reati di rapina mentre in controtendenza i delitti informatici che nel loro totale evidenziano un aumento pari al 16% nonché i furti che registrano un incremento del 4% rispetto al precedente anno. Nel corso dell'anno è stato poi dato impulso anche ad inchieste sui patrimoni illegitamente accumulati così come la ricerca delle tecniche di infiltrazioni nelle attività imprenditoriali. Sono stati sequestrati oltre 28 milioni di euro in beni sottratti alla criminalità. In calo i reati di rapina mentre in controtendenza i delitti informatici che nel loro totale evidenziano un aumento pari al 16% nonché i furti che registrano un incremento del 4% rispetto al precedente anno. Nel corso dell'anno è stato poi dato impulso anche ad inchieste sui patrimoni illegitamente accumulati così come la ricerca delle tecniche di infiltrazione nelle attività imprenditoriali. Sono stati sequestrati oltre 28 milioni di euro in beni sottratti alla criminalità. Intensa l'attività dei carabinieri e artificieri impegnati nel contrasto all'uso dei botti illegali. Anche per il prossimo anno particolare attenzione su tutto il territorio provinciale sarà dedicata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza domestica e di genere e dalla protezione, tutela e supporto delle cosiddette fasce deboli della nostra società in primis minori ed anziani. In questa ottica diverse le iniziative avviate sull'intera provincia di Salerno d'allarma come quelle del settore della promozione della legalità negli istituti scolastici, quelle legate alla sicurezza sul web, quelle di contrasto al bullismo nonché campagne mirate alla prevenzione delle truffe proprio a danno degli anziani. Grazie a tutti.